Ciao ragazzi, andiamo adesso a riprendere il discorso metrico, questo è un passo tratto dal secondo libro delle georgiche di Virgilio e dell'elogio all'Italia. In questo momento non andremo a vedere perché Virgilio elogia l'Italia in senso stretto, andiamo a vedere soltanto la scansione metrica. Sono tutti esametri, l'esametro è così composto, lo scrivo qua sopra, lunga, breve, breve, lunga, breve, breve, lunga, breve, breve, lunga, breve, breve, uno, due, tre, quattro, cinque, o lunga, lunga, oppure lunga, breve. Allora, l'ictus cade sempre sulla prima sillaba di ogni piede, poi ne possiamo vedere al posto del dattilo, possiamo avere lo spondeo, e qua possiamo avere o uno spondeo oppure un trocheo, cioè lunga, breve, ma a me non importa, a me interessa sapere dove cade l'accento. Allora, andiamo a dividere in sillabe, il primo verso l'avevamo già fatto, però, ripetiamo. Ic, ver, a, si, du, qui, questo sparisce, c'è una signale F, at, anche questo sparisce, Allora, vediamo dove cade l'accento, l'ultima sillaba, no, quindi cade qui, poi breve, breve, lunga, sillaba lunga, quindi cade qua, Correpzioniato, quindi questo è breve, 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 lunga, torno indietro, lunga, non lo so, poi qua ho una lunga, quindi per forza questa è lunga, ecco il mio primo verso. Ic, ver, rassi, duat, qualienis, mensi, busestas. Procediamo con gli altri versi. Allora, proviamo a fare senza la scansione metrica. Allora, fin di tutto qua, va l'accento, perché si apre il verso, per cui queste, su tutti esami, per forza questa prima sillaba è lunga. E anche la penultima, so che per forza è lunga. Quindi comincio. Giù, ricordatevi che è un suono. Saxis, muros, infra. Ok. Uh, ho aperto una cosa che non dovevo aprire. Vado adesso a dividere, quindi. Bis, gra, vi, de, pe, cu, des, bis, po, mi, su, ti, li, sar, bos. Allora, quindi ho fatto, anzi vi faccio vedere proprio i piedi. Quindi, questo è il mio sesto piede. Aspettate, cerco di farlo con... Forse in verde si vede meglio. Però vorrei farlo più spesso, eh? Breve, breve, lunga. Breve, cioè breve, lunga, scusatemi. Poi qua c'è il mio altro piede. Ecco qua, i miei sei piedi. Allora. I piedi forse è meglio che li metto alla fine, per comodità. Se giusto li voglio mettere. Allora. Breve, breve, lunga. Non lo so, non lo so, questa è lunga. Vado a segnarmi intanto le lunghe. Le faccio in verde. Lunga, non l'ho fatto sul primo perché, ragazzi, l'avevamo già fatto in classe. Quindi c'è andato un po' veloce. Allora. Lunga, non lo so, non lo so, lunga. Quindi questo sarà l'altro piede. Bis, gravide, non lo so, non lo so, lunga. Bis, gravide, pecudes. Bis, quindi qua inizia l'altro piede. Bis, poemis, utili, sarbos. Quindi, ec verassi dat qualienis pensibus estas. Bis, gravide, pecudes, bis, pomis, utili, sarbos. Giusto. Poi. At, ra, bi, de, tig, res, re, sab, sun, tet, se, va, le, o, num. Breve, breve, lunga. Chiusa, lunga, chiusa, lunga, chiusa, lunga, breve, breve. At, rapidetti, gres, absuntel, se, va, le, o, num. Se, mi, na, nec, mi, se, ros, fall, lun, ta, co, ni, ta, le, gen, tes. Breve, breve, lunga. A, co, ni, ta, le, gen, tes. Poi vado a vedere. Lunga, non lo so, non lo so, lunga. Quindi, semina, nec. Qua c'è un'altra lunga. Ho due sillabe precedenti, questo è un altro dattilo. Semina, nec, miseros. Lunga. Fa, lun, ta, con, ita, le, gen, tes. Prova ad andare, prendo il ritmo dei primi quattro versi. E adesso, in giallo, prova ad orecchio a mettere gli accenti. Poi correggiamo. Quindi, ec, versas, allora, ec, versas, allora, scusate. Ec, verassi, dat, qualienis mensibus estas, bis gravideppe cudes, bis pomis utili sarbos. At rapidetti gres, absuntet seva leonum. Semina, nec, miseros, fallunta, con, ita, le, gen, tes. Nec, rapidim, mensos, sor, bes, per, um, mun, et. No, qua non mi trovo. Quindi non riesco a farlo. Vedete? Io sto facendo tutta la casistica. Perché a volte ci sono... Ma prendi il ritmo e poi ti viene. Non mi viene, non sono capace. E allora mi divido in sillabe. Ragazzi, non c'è niente di male. Dovete capire il meccanismo. Io non sono per fare imparare a memoria. Il ritmo sì. Infatti vi ho invitato a imparare a memoria un verso, due versi. Almeno l'incipit dell'Eneide sì. Però dovete ragionare poi. Anche perché, ripeto, la lettura metrica è un prodotto costruito, ricostruito. Noi non abbiamo gli audio. Non c'erano i registratori all'epoca. Nec, ra, pi, tim, men, so, sor, bes. Pe, ru, mum, ne, que, tanto. Allora. Breve, breve, lunga. Breve, breve, lunga. Lunga, lunga. Ciusa, lunga. Breve, breve. Nec, rapit, men, so, sor, bes. Perum, ne, que, tanto. E qui che ho sbagliato. Squameo, sin, spiram, tractus, e colligi, tanguis. E' da dirlo così. Squameo, sin, spiram, tractus, e colligi, tanguis. Vediamo se ho fatto bene. Squameo, sin, spiram, tractus, e colligi, tanguis. Breve, breve, lunga. Poi, non lo so, questa è lunga. Se questa è lunga vuol dire che qua inizia un altro piede per forza. Se questa è lunga vuol dire che qua inizia il piede. Questa è lunga, l'avevo fatta giusta. Squameo, sin, spiram, tractus, e colligi, tanguis. Ad, te, 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 gre, giassor, bes, operunque laborum. Quindi, ad, te, te, gre, giassor, bes, operunque laborum. Vediamo se ho fatto giusto. Ad, te, 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 gre, giassor, bes, operunque laborum. Lunga, breve, breve, lunga. Non lo so. Non so più niente. Sto soltanto che questa è lunga. Perché è inchiusa. Sillaba, sillaba. Sì, questa è lunga e questa è un dattile. Per il resto non so niente. Che cosa so però? Che IA è un oiato, per cui questa I è breve, se questa è breve, per forza questa deve essere lunga. Questa è una sillaba chiusa, non l'avevo vista, quindi qua inizia l'altro piede. Breve, breve. Addeto degre già sorbesso perunque labore. Vediamo se l'ho fatta giusta. Ricordate che la X è come se fosse CS e la Z è come se fosse DS, TS, per cui si dividono le due consonanti. Ecco perché ho fatto la linea qui. Quindi qua l'ho posizionato, breve, breve, lunga. Vado a vedere, questa è una sillaba lunga, per cui per forza di cosa inizia quel piede. Questo è un tittongo, quindi è lungo, per forza qua inizia il piede. Questa è una sillaba lunga, questa è lunga, quindi è la giusta. Tot con gesta manu, prerupti, sopti da saxis. Flumina qua, qua dobbiamo stare attenti perché qua inizia tutto c'è una sinalefe. Quindi, flumina quanti quos subterla ben sia muros. Mi verrebbe da leggerla così. Flumina qua, qua dobbiamo stare attenti. Lunga, breve, breve, lunga. Non lo so, ma questa è chiusa, quindi per forza è uno spondeo. Lunga, per forza qui. Non lo so, ma questa è lunga, quindi per forza questa deve essere lunga. Perché io leggo anticos e non anticos. Breve, breve, lunga. Quindi, flumina quanti quos subterla ben sia muros. Il verso di sotto. Admore qua sopram memorem, quad quadlui timfra. Perché qua, a vista, c'è una sinalefe. Non ne sono sicura, però. Admero qua sopram memorem, quadadlui timfra. L'ho letta da schifo perché c'è un punto interrogativo, ma mi ripeto, in questo momento a me interessa che voi cambiate la metrica. Quindi, an, ma, re, quad, supra, me, mo, rem, quad, quad, lu, i, timfra. Questo l'abbiamo fatto, breve, breve, lunga. Questa è chiusa, per forza questa è lunga. Io questo la vado a leggere memorem, quindi so che questa o è breve, per cui, per forza dico se è un dattilo. Questa è lunga, quindi l'accento va qua. Breve, breve, lunga. L'avevo fatta correttamente. Leggo questi primi versi. Ic verassi datque alienis mensibus estas. Bis gravideppe cudes, bis pomis utili sarbos. At rapidetti gres, absunted seva leonum. Semina nec miseros fallunta conita leggentes. Nec rapidim mensos sorbes, per omum nequetanto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Giusto. Squamio si inspiram traptus e collici tanguis. Ad deto tegre già sorbesso perunque laboren. Tot con gesta manu, prerupti sopti da saxis. Flumina quanti... Aspettate, questo l'ho letta sbagliata. Flumina quanti quos subter labensia muros. Amare quos supra memorem quodatuit infra. E ora continuiamo. Vorrei continuare. Se scendo... Ok. Mi riscrivo qui a fianco, per voi in realtà, lo schema dell'esametro. Non è una W e non è nemmeno un sedere. Sono le due brevi. Però per comodità le faccio così. Scusate se può sembrare altro, ma... Tre, quattro, cinque e sei. Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ok. Allora. Mettiamo intanto l'accento sulla prima sillaba. Attenzione che questo è come se fosse... G. Anzi. È come se fosse... J, quindi non è una vocale. Ec, o, ec, ad, e, sci. E mettiamola pure sulla penultima. Claustra, equor, refuso, avernis, metalla, fluxit, sabellam, verutos, camillos, cesar. Proviamo. Annelacus tantos, telari, maxime, teque. Proviamo. Annelacus tantos, telari, maxime, leque. Fluctibus... No. Sì. Fluctibus est fremitu, ad surgens benace marino. No. Sa così. Fluctibus est fremitu, ad surgens benace marino. Ad memore portus, la crunico addita claustra. Non lo so, ti sto mettendo a caso, a orecchio. Mi verrebbe da metterlo così. Poi provo a fare la scansione. At quindigna tum magnis stridori busseco. Giulia qua pontò l'onceso na tunda refuso. Tirre nusque fretis, immiti tu restus savernis. Ecce ad em argenti rivos, erisque metalla. Osten dit venisse, venisse, at qua ora plurima fluxit. Ec genusacre virum, marsosso pubemque sabellam. Ad sue tunque malom, ligurem volscosque verutos. Esculit, no, extul, tec, decios marios, magnosque camillos. Cipiadas duros bellò, et tec, no, qua c'ho troppo accendi. Cipiadas duros bellette maxime cesar. A orecchio mi viene da metterlo così. Adesso vado a dividere in sillabe, mi rendo conto se ho fatto danno. Allora, aspettate che io qui ho un po' di problemi con la tavoletta grafica. An, ne, la, us, tan, tos, te, la, ri, mac, si, me, te, que. Vabbè, facciamolo tutti insieme. Fluc, ti, bu, set, fre, mi. Qui devo togliere questa u. È già sbagliato, vedete? Perché non può essere fremitu. Ad, sur, gens, be, na, ce, ma, ri, no. An, me, morem, portus, luc, ri, no. Quad, di, ta, claus, tra. Anche qua. At quindignatum magnis stri doribus sequor, giù li acqua ponto longe sonatum da refuso, tir, re, mus, que, fre, ti, sm, anzi, qua scusatemi. Mit, ti, tu, res, tu, sa, ver, nis, e, che, a, anche qua c'è un errore. Nel senso che M sparisce, non può essere qui l'accento. Ar, genti, ri, vo, se, risque, me, talla, ostendit, veni, sat, quauro, pluri, ma, fluc, sit. Ec, genu, sac, re, virum, marsos, pu, benque, sa, bellam. Ad, su, e, dunque, malo, ligurem, vol, scos, que, berutos. Ex, ex, che non mi cambia niente. Tu, li, tec, de, ci, os, ma, ri, os, mag, nos, que, ga, mil, los, sci, pi, a, da, no. Aspettate. Das, du, ros, be, let, te, max, i, si, me, ce, sar. Allora, andiamo a mettere i nostri accenti. Breve, breve, lunga. E qua l'ho fatto. Non lo so, non lo so, non lo so. Questa è lunga, questa è lunga, questa è lunga, quindi lunga, breve, breve, lunga. Questa è lunga, quindi per forza qua comincia un altro piede. E ho uno, due, tre. Però mi manca un piede, quindi per forza due spondei devono essere. Questa l'ho fatto corretta. Questa è lunga, quindi questa l'avevo sbagliata. Fluctibus et, fremitas, urgens, benace, marino. Qua, non lo so, lunga. Breve, breve, lunga. Non lo so, non lo so, lunga. Qua, se questa è lunga e questa è lunga, è lucrinoque portus memorem. Questa l'ho fatta giusta. An memorem portus, portus lucrinoque addita claustra. Breve, breve, lunga. Non lo so, ma questa è lunga, quindi questo è un altro spondeo. Lunga, questo è uno spondeo. Non lo so, ma questa è lunga, quindi questo è un altro spondeo. E questo è un altro spondeo, quindi questa è la pure giusta. Atque indignatum magnis stridoribus equor. Breve, breve, lunga. Non lo so, non lo so, non lo so. Qua c'è una lunga. E qua c'è un'altra lunga, quindi lunga, lunga. Lunga, questa è una breve perché è una correzione iato. Quindi per forza qua inizia un altro piede. Ma se questa è lunga vuol dire che qua inizia un altro spondeo. Ma questa è lunga, quindi per forza questo è un dattilo. Questo l'ho fatto corretto. Giulia, qua, puntò, longe, sonatunde, refuso. Breve, breve, lunga. Poi, non lo so, non lo so, lunga. Lunga, lunga. Qua ho messo l'accento. Questa è vuota e questa è lunga. Quindi questo è uno spondeo. Qua inizia l'altro mio piede. Quindi, di renusque. Questa è lunga. Non lo so, non lo so lunga. Quindi qua c'è un mio dattilo. Se questa è lunga vuol dire che questo è un altro spondeo. Breve, breve, questo è il mio dattilo. Anche questa era giusta. Tirre, nusque, fretis, immititur estus savernis. Metalla. Breve, breve, lunga. Questa è lunga. Per cui qua c'è il mio spondeo. Non lo so, non lo so. Lunga. È un dattilo. Lunga. Questo è lo spondeo. Breve. In realtà, qua praticamente, è come se fosse considerata un'altra breve qua. E che ha d'argenti di boss e a risco e metalla. No. Cos vale qualcosa. Questa non mi suona letteralmente. Aspettate. Ci devo ragionare su questo. Aspettate che... Anche mi vengono i dubbi. Aspettate che la dico per bene insinclata perché non mi suona. Allora. Ec. E. A. Dar. Genti. Rivo. Seris. Que. Metalla. Questa è lunga. Breve, breve, lunga. Questa è lunga. Quindi va qua. Questa è lunga. Breve, breve. E infatti. Eccolo qua. E che ha d'argenti ribos e a risco e metalla. Questa l'avevo sbagliata. Chiaro perché ho fatto questo ragionamento? Perché questo è il dittone che va insieme. Questo è un oiato. Quindi sono due brevi. Qua M cade e la lunga è qui. E' AR. Quindi la sillaba è DAR. Se questa sillaba è lunga, per forza questo deve essere un dattilo. Questa è una sillaba lunga. Quindi ARGEN è uno sponteo. Sponteo, questa è appunto l'inizio dell'altro dattilo. TIRIV. Anzi, non un dattilo. Scusatemi. Scusatemi. È l'inizio di un altro sponteo. Quindi per intenderci questo verbo SOE. Dattilo. Che sarebbe E-A-K-E-A. Poi abbiamo uno sponteo. Dargen. Poi abbiamo un altro sponteo. TIRI. Poi abbiamo un altro sponteo. VOSE. Poi abbiamo il dattilo. RISQUEME. E poi, non so il caso adesso, se quello è un nominativo, abbiamo uno, dovrebbe essere un trocheo. Ma non ne sono sicura perché non so adesso il testo. Però non ci interessa. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Questo è. Cioè è un verso che ha più spondei. Secondo, terzo e quarto piede sono degli spondei. Poi, breve, breve, lunga. Non lo so, ma questo è un dittongo, per cui è auro. CHIUSA. Quindi questa è lunga. E inizia il mio piede. Non lo so, ma questa è lunga. Questa è la corretta. OSTEN DIT VENIS AT QUAURE PLURIMA FLUXIT. SABELLAM. Breve, breve, lunga. Non lo so, ma questa è chiusa. Quindi questo è appunto uno spondeo. CHIUSA. Quindi l'accento va qua. Non lo so, non lo so, lunga. Dattilo. Non lo so, non lo so, lunga. EGENO SACRE VIRUM MARSOS PUPEM QUESA BELLAM. Poi, VERUTOS. Breve, breve, lunga. Questa è lunga, quindi è LIGUREM. Anzi, scusatemi, LIGUREM si legge qua. Io questa parola la leggo LIGUREM. Quindi so che questo è breve. Se questo è breve, questo lo è anche. L'accento va su MALO. Non lo so, non lo so, lunga. Non lo so, non lo so. Questi sono due lattili. breve, breve, lunga, sillaba chiusa, quindi l'accento va qua. Era corretto, l'ho letta bene, solo ho commesso l'accento nella posizione sbagliata prima. MARIOS, non MARIOS. BREVE, per forza, perché è prima di un... Non è un oiato, quindi questo è breve. BREVE, BREVE, DECIOS. Anche qua, l'ho letto bene prima, ma ho segnato male. Non mi viene facile segnare gli accenti con la tavoletta. BREVE, BREVE, EC. Qua era sbagliato questo verso, però. Perché noi avevamo fatto l'accento in modo sbagliato. Ecco qua. EXULI, TECH, DECIOS, MARIOS, MAGNOSQUE, CAMILLOS. Come vedete, ci sono stati degli errori. Errori in questo verso. Anzi, l'ho spesa così, non vedete niente. Questo verso sbagliato. Questo. Questo. Cioè, gli accenti come li ho messi adesso sono corretti. Però, come li avevo fatti, ad orecchio era sbagliato. Prova che, ragazzi, non è semplice e non è sempre precisa la nostra scansione ad orecchio. Ecco perché poi dobbiamo un attimo prendere il testo e ragionarci su. Cesar, breve, breve, lunga. Non lo so, sillaba chiusa, quindi questa è lunga per forza. Sillaba chiusa, quindi è per forza qui l'accento. Non lo so, sillaba chiusa. Breve, breve, lunga. Questa è la corretta numero persona sillaba. Cipia, das, duros, bellette, maxime, cesar. Adesso siamo arrivati agli ultimi versi, perché sono 76. Allora, voi non ci crederete, ma mi sta scappando la tavoletta. Mi sta cadendo la tavoletta grafica. Allora, vado a mettere intanto gli accenti. Qui, im, sal, man, in, as. E poi c'è la penultima. Oris, indum, tellus, artis, fontes, carmen. Vado a dividere in sillaba. Ah, proviamo come prima. Leggo il verso di prima per farmi il ritmo. Cipia, das, duros, bellette, maxime, cesar. Quignoc, extrimis, asie, iambictorinoris, imbellavertis, romanis, arcibusindum. Salve, magna, parenz, frugum, saturnia, tellus. Magna, mirum, tibires, antique, laudis et. No, qua c'è qualcosa che non va. Questa non lo metto proprio perché è sbagliato. Non mi suona. Leggo il verso di prima. Salva, magna, parenz, frugum, saturnia, tellus. Ingre, dior, sanctossa, usus, recludere fontes. Ascre, unque, cano, romana, peroppi da carmen. Proviamo a fare quel verso saltato. Magna, virum, tibires, tibires, antique, laudis et artis. Antique, laudis, antique, laudis et artis. Dovrebbe essere così. Allora, qui, nun. Chec, tre, mi, sa, si, e. Attenzione che questa è come se fosse una J. Quindi non mi serve. Iam, victorinoris. Im, bel, questo non c'è. A, vertis, romani, sarci, bu. Sin, dum. Questa è una vocale perché è servita da consonante. Se fosse stata Iodium, ad esempio, serve essere lo stesso caso di Iam, come una J. Salve, magna, parense, frugum, saturnia, tel, lus, magna, vi, rum, ti, bi, re, san, ti, que, laudis et artis, in, gre, di, or, san, cto, sausus, rec, lup. Questa che sentite è la sveglia perché calibro le lezioni su 30 minuti. Re, clude, re, fontes, as, eh, as, gre, un, que, cano, romana, perop, i, da, carmen. Ok. Allora. Partiamo sempre dalla fine. Oris. Breve, breve, lunga. Sillaba lunga, quindi l'accento va qua. Breve, breve, lunga. Questa so che è breve perché la vocale, prima di un'altra vocale, è sempre breve. Non lo so, ma questa è una sillaba lunga, quindi questa è lunga, sillaba chiusa, lunga. Questa è la corretta. Quign, 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 un, quign un extremista, si è, Jan, Victor, in oris. Indum. Breve, breve, lunga. Qua non lo so, però io la parola come la leggo. Romanis. So che questa è lunga. Era una vocana, un'ultima sillaba lunga, per cui l'accento cade qua. Romanis. Non lo so, ma questa è sillaba chiusa, per cui questa per forza è lunga, è uno spondeo. Sillaba chiusa, quindi per forza questo è un altro spondeo. Questa sillaba non c'è perché la L si lega qua. Sillaba chiusa, quindi inizia con un altro spondeo. In bella vertis romanis arcibus indum. Tellus. Breve, breve, lunga. Non lo so, sillaba chiusa, spondeo. Non lo so, sillaba chiusa, spondeo. Poi, non lo so, non lo so, sillaba chiusa. Questo è un dattilo. E questo è uno spondeo. Salve magna parenz, frugum saturnia tellus. Artis. Breve, breve, lunga. Questo è un dittongo, quindi lunga. Questo è un altro spondeo. Sillaba chiusa, quindi uno spondeo. Non lo so, non lo so, sillaba lunga. Dattilo. Non lo so, non lo so, sono arrivata all'inizio. E' un altro dattilo. Quindi, magna virum tibires, antico, e laudis et artis. Fontes. Breve, breve, lunga. Rec è lunga, sillaba chiusa. Quindi questo è uno spondeo. Au è un dittongo, per cui è un altro spondeo. San, sillaba chiusa, per cui è un altro spondeo. Questa è breve, perché è prima di una vocale. Breve, breve, lunga. Ingre, dior, santossa, usus, recludere, fontes. Carmen. Breve, breve, oppida. Non lo so, non lo so. Romana, come prima. Io lo pronuncio romana, quindi questo è un dattilo. Poi, vado indietro, ho una serie di sillabe, non so se sono lunghe o brevi, so soltanto che A è è di tongo, per cui questo è uno spondeo e qua inizia il mio nuovo piede. Ho una, due, tre, quattro, cinque sillabe. Vuol dire che una di queste è un dattilo e l'altro deve essere forse uno spondeo. Allora, può essere innanzitutto romana. Il verbo cano mi dice che questa è breve, quindi breve, breve, cano, romana, eccetera. Quindi, anche perché ragazzi, sarebbero tre accenti, è impossibile avere l'accento qua, perché questo è l'inizio di un piede, quindi per forza questo o è lunga, o è cano, romana, o è cano, romana. Non ci sono alternative. Qua è il mio tradizionale. Asche, unque, cano, romana, però, qui da carne. Allora, questa è la mia sc... Niente, si è aperto di tutto. Questa è la mia scansione metrica. Vado a rileggere tutto. Ic verassi dat qualienis mensibus estas, bis gravidepecudes, bis pomis utili sarbos. At rapidetti igres, absuntet seva leonum. Semina nec miseros, fallunta conita leggentes. Ner rapidim mensos sorbes, perumum nequetanto. Squameos inspiram tractus e colligi tanguis. Ad deto tegre, già sorbesso, perunque labore. Tot con gesta manù, prerupti soppi da taxis. Flumina quanti quos subterla ben sia muros. Ad mare quos supram e morem quotaduli timfra. Anne la custantos telari maxime teque. Fluctibus et fremitad sur gens benace marino. Ad memorem portus la crunico ad acru... Aspettate. Ad memorem portus lucrino quaddita claustra. Ad quinigna tum magnistri doribus equor. Iulia qua pontò longè sonatunda refuso. Tirre nusque fretissi immittitu restus savernis. Ecce ad argentirri vosse erisque metalla. Osten dit venisse at quauro plurima fluxit. Ecce nusacre virum marsos pubenque sabellam. Ad sue tunque malò ligurem vols colsque verutos. Exculitet decios marios magnosque camillos. Cipi ad as duros bellette maxime cesar. Quinnuc extremissas siegiam victorinoris. Imbella vertis romani sarcibus indum. Salve magna parence fragum Saturnia tellus. Magna virum tibires antico e laudibus et artis. Quindi magna virum tibires antico e laudis et artis. Ingre di or santossa usus recludere fontes. Es creunque canor romana però pira carmen. Questa è la scansione metrica dei versi 149-176 del libro secondo delle georgiche. Ciao!